Sei partite, sei partite abbiamo fatto col Bari, due sconfitte, quindi insomma quattro vittorie, due sconfitte, non c'è mai questo pareggio, ma eccoci qua, come migliorare ancora questa squadra, il risultato realistico, avendo pochi soldi a disposizione, possiamo veramente fare qualcosa per questo centrocampo, o è meglio puntare su un altro portiere? Fredel non mi ha dell'uso molto, diciamo, quindi è interessante la questione, vediamo come andrà stavolta, dove siamo? Quanto il Bologna, è interessante, il Bologna, bellissima squadra, mi sembra di aver capito anche nei commenti che qualcuno che segue questa rubrica, questa retro carriera del Bari, di Jack Lone Max, sia tifoso del Bologna, e quindi, beh, si gioca ovviamente per vincere, ma massimo rispetto, questo è il Bologna di Baggio, se non sbaglio, il Bologna di Roberto Baggio, no, no, Gianluca Signori e Nicola Ventola, non c'è Roberto Baggio, quindi insomma, signori, Beppe Signori, me lo ricordo, il Bari, di Bari, di Bari, di Bari, di Bari, di Bari, se ricordo bene, ha poi finito la carriera al Novara Calcio, ma siamo in Serie B, forse anche già in Serie A, no, in Serie B, in Serie B, è sicuro che io non in Serie B, è il tempo, ok, attenzione, che traversa, vediamo come va contro il Bologna, la palla rimessa dal portiere supera la metà campo, ecco qui, ma ci ha due tiri in un attimo, bisogna accalmare la situazione, perfetto, no, non è, in che libero possiamo tenere a palla, questo Bologna, veramente, ci sta menando, ci sta menando tantissimo, la palla che trova il portiere immobile, De Rosa, passiamo, De Rosa non fare giochi di prestigio, ha fatto un errore clamoroso, clamoroso, un errore imperdonabile, il portiere batte la rimessa con palla che va oltre la metà campo, perfetto, andiamo un po' come va, attenzione, Bologna finora domina, sono più occupato, questo successo di Bologna, si, vabbè, ma è anche Friedel, però, non ha una zh1 di passaggio, mannaggia, adesso, bisogna farla calma, ma passiamo così, ok, passiamo così, possiamo non fare errori, non ho ancora fatto un'azione in attacco, è clamoroso, sta partita qua, sarà stato un incredibile colpo di scena della scorsa partita, a cambiare le sorti della gara, meno male, è affalciato bene, senza far farlo, in maniera abbastanza sportiva, fa per dire, ok, questa qui, funziona, va il tiro, stavolta finalmente attacchiamo noi, bellissima affalciata, non basta, non basta, che segnale, però almeno il Bari c'è, mi stavo già preoccupando, il Bari che non esisteva, e adesso, Tarantino, Quentin Tarantino, no, non penso che sia lui, eh, si impadronisce dalla palla, siamo, Spinesi, Spinesi, no, se non è, è l'azione, De Rosa, De Rosa continua a fare errori, sta partita, se non si trova il pallone tra le mani, se non si trova, se non si trova, se non si trova, se non si trova, ben giocata, ecco fatto, Tomic, Tomic, me l'ha affalciato malissimo, contrasto da De Rosa, bene, ora si chiara, sfoghiamoci, ha colpito la barriera, stavo tirando, eh, che tiro, managgia che azione, siamo ancora a 0-0, ma lo spettacolo non manca, il Bologna, si ha stracciato, a livello di spettacolarità, stavo tirando sta partita, che deve avere, contra bene il pallone con la testa, e lo giocano indietro, povero Chiesa, cosa gli hanno fatto, cosa gli hanno fatto, eh, attenzione, la prende a tira, così decide lui, di farlo, mi ha chiesto, il mio preteso, di tirare da, da quel punto di istante, dai, e questo è un intervento facile, per il portiere, no, il portiere muto X, no, ok, vabbè, stia, ci siamo, ma sto Bologna, mi sta dando un sacco di problemi, incredibile, perché è forte, comunque è forte, la squadra, non l'ha lasciato passare, ecco qua, ci siamo, managgia, mi stanno facendo, un po' di prestigio, incredibile, e Friedel c'è, ah, peccato, c'era anche su questa, Foscini, gol di Foscini, dalla distanza, e sì, ne abbiamo presi, ok, Domi, buon controllo, oh, che tensione, partita bella, devo dire, partita bella, non per noi, ma, spettacolo, partite tirate in questo primo tempo, 1 a 0, dopo, il Bari, sembrava inarrestabile, ha subito le sue battute d'arresto, stiamo notando la grade, l'arbitro da inizio al secondo tempo, qua, sbagliavo, ho sbagliato a malice, ok, ci siamo, ottimo movimento, crossare, non è un bel passaggio, però, attenzione, ci siamo, ci siamo, quasi, quasi, bravo Bologna, bravo Bologna, bravo Bologna, bravo Bologna, ovviamente, difesa, valore giocato con la testa, all'indietro, ah, che attenzione, parata, ha evitato il gol, con lui si pentava un tiro così insidio, è stato bravissimo, splendido intervento, e segna ancora Bologna, Zeylias, mannaggia, Zeylias, il gol di classe, devo mettere un bel gol, un bel gol, e passano in vantaggio di due gol, a mia solita schivata, ma non è bastata, è una brutta partita per noi, stavolta, speriamo di fare la rimonta, che abbiamo visto prima dal Bologna, speriamo davvero, portiere ben piazzato, con non ha problemi sul colpo di testa, ben piazzato, si è impossessato del pallone, cross, cross, attenzione, no, dobbiamo insistere qua, eccoci qua, beh, sarà il momento di fare qualche cambio, ci vuole più intensità, l'intensità, stavolta tolgo Spinesi, stavolta tolgo Spinesi, metto Mazinga, magari questo cambio, può ravvivare la squadra, in tempo, prepariamoci ad avanzare, ecco fatto, perfetto, ok si va, abbiamo ancora abbastanza tempo, Eccolo Spinesi, non si sa di rullare, non si sa di rullare, il punteggio è ora di 2-1, si sono riportati in partita, Dobbiamo credere Deve giocare molto meglio Molto molto meglio Spazza via Oh no 3 a 1 Di Pola Vento La segna anche lui Eh dura dura questa Brutta partita Non per brutta quella partita Ma spettacolo Eccoci qua ci siamo Passa Ok Quasi facevamo un gol Bologna è comunque fenomenale Che gol Chi è stato segnato così Mazze Maggia Che non è l'attore Michael Metz Ok dai Se non superavamo quello Sarebbe stato pareggio Si abbiamo cercato Si stanno riportando in partita 3 a 2 il punteggio ora Veramente Grande sorpresa di questa stagione Sembra che sia già il secondo suo gol La palla ha mancato la porta Ma attira Ok benissimo Tira la palla dai piedi Tira la palla lunga qua Crossa Attenzione ci siamo ancora No no ma ci siamo Segna Segna Abbiamo pareggiato Ciucu Ciucu Dessimo gol Mannaggia Ciucu c'è Anche senza Spinesi in campo Sono contento Sono contento Sembra lo scenario della partita precedente Ma Andiamo Fride Squadra in parità Mentre ci avviciniamo Allo scadere del tempo regolamentare No No Questa non ci voleva proprio La falcia Ok Ha giocato bene Sotto pressione Vediamo qui Non me l'aspettavo Sto tiro Non volevo neanche Ah Gianluca Pagliuca E beh E beh Pagliuca Signor portiere il Pagliuca Signor portiere No Ci punisce alla fine Giuseppe Signore Ha segnato tutti Ma proprio tutti Sta partita Attenzione No ma neanche mi dà il tempo Ma non ci credo Ma non ci credo Che delusione Evidentemente deluso dal risultato Eh Deluso sì Deluso sì Deluso e amareggiato Non me l'aspettavo proprio Eh beh Eh Questo non ci voleva veramente Questa cosa non ci voleva Ed è andata in questa maniera Ripeto Bisogna essere sportivi Di fronte al verdetto del campo E faremo poi Coppa Italia Prossima volta Faremo Coppa Italia E speriamo In un risultato Meno disperato Ok Ci vediamo Prossima volta Milan-Bari-Coppa Italia Ciao E alla prossima Da Geklion e Max Ciao